Oggi è domenica 21 giugno ed inizia formalmente l'estate. Tra pochi minuti dovrebbe sorgere il sole alle 5.57, in questo momento sono le 5.55. Sono venuto così presto per non incontrare nessuno, perché se qualcuno mi vedesse parlare da solo chiamerebbero la neuro e mi farebbero internare. Questo è l'84esimo video realizzato in poco meno di sei mesi e dedicato al progetto di self-coaching per una crescita evolutiva. Se riesci a seguire il mio ritmo, potresti trovare particolarmente utile quello che sto per dirti. Andiamo? Se hai perso qualche video, puoi trovarli oltre che su Facebook e Instagram, LinkedIn, sul canale YouTube, dove sono suddivisi per aree tematiche. Ne trovi 31 dedicati al raggiungimento degli obiettivi, 15 all'area valori identità, 32 sulle competenze trasversali e 21 sulle abilità necessarie per gestire un momento come quello che abbiamo appena vissuto e che soprattutto stiamo vivendo ora. In ogni caso, se in questo momento della tua vita ti trovi in una delle situazioni che sto per elencarti, potresti trovare particolarmente utile ritagliarti due minuti di tempo ogni due giorni per seguire video dei prossimi mesi. Magari hai un obiettivo da raggiungere, personale o professionale, oppure una situazione da cambiare, o magari un obiettivo da definire ex novo, o magari una relazione da migliorare o da creare, una decisione da prendere, oppure una scelta da fare, un comportamento da modificare, oppure un'abitudine da sostituire, un limite da superare, oppure una convinzione illimitante da modificare, delle competenze trasversali da allenare, oppure semplicemente un periodo evolutivo da gestire. Insomma, se ti ritrovi in una di queste condizioni, potresti trovare utile avere un coach che ti affianchi. Per oggi ho terminato. Se pensi che possa essere più utile, sai dove trovarmi. Adesso vado veramente a correre. Ci vediamo dopo domani. Ciao! 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 Grazie.